Ciao ragazzi, non c'è un video, oggi siamo qui per rifare questa cosa qui. Ecco qua. Il pane. Il formaggio. Il formaggio, certo. E infine il pomodoro. Che cosa? Che caspita ha fatto? Che cos'è? Perfetto, va bene, va bene, ok. Sarà un'altra cosa? Perché è la salsa? Beh, la pizza ci vuole un ingrediente segreto, lo so. No, dai, non ce la posso mettere. Che peccato. Aspetta. Sì! Sì! È pure un drago. Cannibale! Se l'è mangiato! Se l'è mangiato il suo fratello, forse. Ok, bisogna rifare una fece. Non riesco a scrivere. Oh, ok. E infine il fuoco di... Fuoco di sovia, tieni. E che caspita ha il fuoco di sovia? Ok, tieni. Su, su! Chi è questo tizio? Oh, chi c'è qui sopra? Qui c'è un mondo nascosto. Oh, c'è un coso segreto qui. Ok, va bene. Che cosa vuole questo? Qui vuole una moto. C'erano delle cose segrete qui sopra. Qui no, ok. Vabbè, questo vuole una moto. Quindi mettiamo una ruota. No, no, no. Moto ciclista. Ok. Pi. Vabbè. Sì. Permettere alla moto di funzionare. Il moto ciclista. Ok. Va bene? Basta? No. E... Manubrio. Ok, sono riuscito a scrivere bene. Guido. Delle ruote sono già... Come? È un manubrio quello, ti rendi conto? Allora un pedale. Le moto da oggi sono i pedali, ragazzi. No. Pelle. Pelle, tieni della pelle. Mmm. Sella. Non intendevo questa, però va bene. Va bene, sì, appunto. Avrà un po' per sedersi. Sulla sella per cavalli, è quello che è. E vai. Anche il moto ciclista. Adesso? Ok. Bello. Vai. Tieni, dai. Così almeno... Se hai su qualcosa, ti ne chiede una ruota. No, vabbè. Tiriti, tiriti. Tiriti, tiriti. Sano per consegnarli a Starlight. Appendizio a chef completo. Ok. No, ci andiamo dopo la Lily. No, qua c'è ancora l'invasione dei vecchi cattivi. Ci ammazzano fra di loro. Guarda, li sono impazziti. Vai, Tedia. Pensaci te. Vabbè, tutto qua si ammazzano. Direi che possiamo andarcene. Sono tantissime. Ok. Vediamo. Cominciamo quindi questo nuovo mondo. Nella grotta delle maiuscole. Mi stanno mangiando una casa. Certo. È logico. Tutto... Oh, chi è? Tizia qui, ne ricordo. Gorgone. Gorgone. Oggettivo. Freddo. Fatta in casa. E vai. Non ci voglio andare, io dire. Aiuto. Dai, all'altrista e medusa. Un partner... Pa... Partner... Non riesco a leggere neanche. Partner domestico... Romantica... Ah, beh. Ok, un partner domestico. Finché ci lasci tranquilli. Ok. 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 No, no, no. Prendiamo così. Ecco te. No, non vi va bene il tuorlo. Allora, di time. Ok. Ok. Proviamo allora con il pollo... X. Tieni. Sì? No. Sì? No. Un minotauro. Ci vogliono sempre degli aggettivi senza senso. Perché? Che cosa ho scritto io? Celere micro... Micofago. Che è un micofago? Vabbè, facciamo un semplice minotauro. Voilà! Non va bene. Perché non va bene? Ah, sì, va bene. Ok, se qui balla e c'ha fame. Se vuole mangiare il pollo X, mi sa. Andiamo! Aspetta, ma... Perché si è infermata? È morto! No! Oh, mamma mia! Che cos'è? Chi è? Se l'ha rimangiato! Chi è sto qui? Chi è? Fa vedere. Vigile! Un vigile! Ok, benissimo. Direi li può seguire adesso. Va bene. Che dice? Ho pescato tutto il giorno, ma non c'è niente da prendere. Sicuro? Sicuro perché c'è una balena. Ecco. Pesce. È una balena, non è un pesce. Va bene, ti do un pesce. Se il mouse rimane al suo posto. Raccontolo qua. Vai! No, la balena se l'ha mangiato! Ha perso, prendi uno prima che se la mangi... La balena si è persa tutto il suo cibo. Ma va, tene, va. Ecco qua. Ok, adesso va bene. Un pesce tirannico, ok. Che c'è? Cantante rapportato. Spaventoso per essere amato. Ruba! Ah! A me sembra tipo... Ma perché è andato a fuoco? A me sembra nocce. Mi ricorda nocce. Dimmi. Sono troppo su... Non lo so. Nocce. Nitro! Ok. Che cosa è successo? Perché soprattutto? Per quale motivo è accaduto tutto questo? Ok, di qua non ti posso andare. Andiamo a dire di qua, allora. Quante le abbiamo prese? 3 su 7. Ciao. Ho bisogno di provvistere a portare la nonna. Ecco qua. No, no vabbè. Un carciofo. Ok, allora. Un carciofo. Ecco qui. Vai. Una spuntina per la nonna, il carciofo. Ok, che vuoi te? Vuoi spievo un desiderio? Sì! Una montagna. Perché no? Ed è viva. E spara pallini. Oppure... Vabbè. Moneta. Moneta. Sì. È apparso un unicorno che è spaventato da cosa? Oh, dove caspita vai? Aaaaaah! Che caspita era? Unicorno matografico autocontradditoria. Perché? Roccobaleno. Morto. Ok. Questa musica è orribile, non si può abbassare. Ok. Vediamo che c'è qui. Ditti che mangiano una casa, sì. Ma perché state mangiando una casa e pure fate... Ah no, al cioccolato. Casa in legno. Casa in legno al cioccolato. Alla cacca. E' alta e calva adesso. C'è un pallino. Che cos'è? Vabbè. Rivoltante. Put... Pus. Pura. Iriol. Ah, così parate a non mangiare le case. Ah, era la casa della tizia che si era stava... Ok, va bene. Perfetto. Esprimi un desiderio. Ah, intanto l'altro ha espresso un desiderio. Perché? Ma prima l'abbè, dai, spesso. C'è ne manca ancora una? Sì. Se mi ha dato un po' tappattisti, ci vuole. Tanto con il colore. Allora, pia di. Perfetto. Adesso? E' colorata. Colorata. Che ho scritto io? Colorta, ok. Non tocco di colore. Ok, adesso ce l'ha a fare il sostizio qui. Aiuta il pioniere sulla pista dell'Oregon. Ok, mi sono impicciolito. Non so perché, ma mi sono impicciolito. Mi è voluto in mente una cosa da provare, visto che siamo qui. Ah, muro. No, no, no. No, ma Abramo. Abramo. Vai con Abramo. Alto. Adriato. Oh, aiuto, 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 aiuto. Un'auto mi vuole ammazzare. Un'auto mi vuole ammazzare. Io volevo solo un muro alto. No, dai, lasciamo perda. Un esperimento a stupire. Ok, che c'è? Vale ove, se mi serve un lavoro, dammi qualche cosa per diventare l'agricoltore. Fare, andiamo il banchiere. tieni. No, ok. Ok. Oh, che spavento, non me l'aspettavo. Vai, 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 andiamo. Chi è morto il bue? Ah, il bue è morto di tifo. Che era un animale per sostituirlo. Tadà. Sì, vai col pollo X. Non sapevo che serviva qualcosa. Sto finendo il cibo. Eh, però, quante cose... Ah, e basta con... Tieni. Il tuo caro stai andando. Sto finendo il cibo e non so come il che c'è. C'è qualcuno che possa insegnarmi. Ah, ok. Ecco qua. Che sottile di testa. Eh, però, eh, però, quante cose. È un drop assurdo. Questo però dammi fucile. Sono arrivato al fine del mio cammino. Sì, sì. Però dammi fucile. Che vuoi adesso? Tieni. Mmm. Una casa. Sono la mo... Guardate dove è finita la casa. Tanto lui... Va bene, dai, te la tira giù. Sono... Simpatico. Tanto il carretto si è buggato e sta trascinando via il pollo X. Suota. Ok, niente. Pover pollo X. Sarà per sempre pieno di qualcosa. Mi sembra che sia un vigile. Ok. L'ho completato. Adesso possiamo andare da vivi? No. Vabbè, continuiamo. Ok, ragazzi. Per oggi è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vai! No. Lasciamo perdere. Vabbè, aspetta. Ecco. Ciao. E al prossimo episodio apocalisse di vecchie cattive.